a parlare attraverso la stampa e altre ordine di informazione e niente, poi vi è visto che abbiamo in programma a parte i soliti incontri di aggiornamento anche per il 2019 nel primo semestre del 2019 sarà in provincia di Bavia un corso webc dedicato quindi al settore giovenile e poi quando sarà il momento o che avremo la certezza del luogo e dei tempi ovviamente sarà la nostra cura da bene la comunicazione bene, grazie, ci fa piacere essere, vedervi così numerosi e do il benvenuto ai nostri, buonanissimi, buonasera a tutti mi dispiace di essere il primo che faccio un momento un po' certissimo perché io l'ho fatto tanto, poi dopo ho preso un po' di poche parole magari io mi dico un'ora no, no, va bene, ma era il tuo vero no, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene grazie